buongiorno buongiorno a tutti e bentornati sul vostro canale allora in realtà non sono solo ma in questo momento voglio farvi vedere la camera lampo ciao amore saluto a tutti è fiero lui è fiero è fiero allora oggi è il 30 ottobre e mi sono ritagliato un'oretta tutta per me per poter andare al mio mercatino di fiducia perché parlo di mercatino di fiducia perché ho instaurato un bellissimo rapporto con uno dei venditori che è un signore poco più di cinquantenne probabilmente anche un neo appassionato di analogeria perché si vede che cerca di masticarne qualcosa e mi piace il modo con la quale si pone e si propone anche perché comunque c'è c'è uno scambio di informazioni cerchiamo di capire l'uno dall'altro quello che ci piace quello che ci interessa insomma scambi veramente cinque dieci minuti di chiacchiere piacevoli e non è solo il apri la vetrina guardo sì mi piace compro no non mi piace lascio lì ciao quindi questo signore lo ringrazio perché ha una affabilità non comune non si comporta da venditore ma da appassionato e proprio per questo motivo mi ha consigliato di acquistare questi cinturini a 5 euro in pelle ok che non sono di ottima qualità parliamoci chiaro ma hanno una qualità diciamo soddisfacente per i 5 euro richiesti perché hanno i requisiti che sono innanzitutto il il passa cinturino viene lo vedete c'è l'impuntura cucita quindi non è solo incollato che si scolla dopo due secondi le le impunture delle cuciture sono tese e non ci sono e non ci sono fili che penzolano fuori o riprese quindi è un tutt'uno e l'imbottitura è abbastanza soddisfacente la colla che è stata messa per chiudere i due due lembi di pelle non è malvagia sembra sembra essere distribuita e sembra aver tenuto nel tempo e quindi ho deciso di acquistare a corredo di quello che vi farò vedere questo cinturino sotto quello che è stato un po il suo consiglio perché comunque è vero che io qua dentro avrò 100 cinturini in questa scatola col picot avrò più o meno un 100 cinturini ma a parte i 5 euro se una persona si propone con genuinità e riesce ad entrare nelle corde perché si perché è una persona propositiva ma benvengono ma benvengono queste persone capaci non solo di vendere ma di intrattenere aveva la fila c'erano altre persone che stavano aspettando il proprio turno ma probabilmente abbiamo trovato una quadra e forse anche un feeling quindi lo ringrazio detto questo passiamo ora a quello che è il contendere di questo video cioè quello che è successo oggi e quello che non mi aspettavo sinceramente perché era un orologio che da cartellino era fuori dal 16 di ottobre oggi è il 30 sono passate due settimane secche e chi se l'aspettava una cosa del genere qualcuno spesso anche un po erroneamente parla di orologi di qualità senza però probabilmente capire che gli orologi di qualità non devono avere un movimento che è conosciuto ma devono avere un movimento che abbia quella particolare qualità tante volte sento sento alcuni commenti no ama questo orologio qua il 28 24 quindi è un età un orologio di qualità piuttosto che al nh 35 orologio affidabile quindi di qualità e dopo tu vedi questi orologi che vengono pagati 300 400 euro tranquillamente con questi movimenti di fornitura che nulla tolgono quello che è il piacere dell'orologio meccanico ma che probabilmente bisogna imparare ad usare la parola qualità in contesti ben superiori quelli sono orologi meccanici con dei movimenti facilmente sostituibili che hanno la prerogativa di riuscire ad essere riparabili veramente con con pochi euro perché se ti si rompe il bilanciere di un nh 35 con 28 30 euro il movimento lo prendi completo gli orologi che esprimono una certa qualità sono orologi che hanno poi hanno invece delle certificazioni con sé che raccontano una certificazione raccontano quindi che qualcuno qualche ente è riuscito a dire sì guarda questo orologio questo movimento che tu hai incassato soddisfa dei requisiti che sono abbastanza restringenti che sono piuttosto rigidi uno dei dei certificatori più più conosciuti ok è il COSC ok il COSC non è altro che un ente in grado di verificare su diverse posizioni e per un periodo un lasso di periodo ben determinato quello che il movimento e l'orologio riescono ad esprimere in determinate condizioni adesso io non me la sarei mai aspettato e vi dico la sincera verità chi avrebbe mai detto o meglio voi avreste mai pensato di trovare un orologio COSC a 100 euro silenzio tombale io sinceramente no e devo dirvi la verità io ho fatto la foto prima di chiamare il commesso perché tra l'altro io avevo siccome che qualcuno pensa che vengo giù dalla pianta e che arrivo in determinati contesti orologieri perché il buon dio mi ci ha messo lì o perché ho pagato qualcuno o perché qualcuno gli sono simpatico no probabilmente non è assolutamente così me li sono meritati certi certi contesti sono riuscito ad arrivare a soddisfare quelle che erano le mie voglie quello che erano i miei sogni e l'ho fatto col sacrificio sono 27 anni che che praticamente io colleziono 24 anni che colleziono con cognizione di causa 24 anni che colleziono con lo studio l'approfondimento non è più il compro perché mi piace ma compro perché mi è piaciuto quello che ho riscontrato nelle letture quello che volevo era questo o che ho ricercato era questo ora mi scappa l'occhio su questo orologio e dico oh caspita mi pare strano però chiedo subito al commesso guarda mi fai vedere questo orologio qua perché insomma mi sembra che possa essere interessante per quello che è la mia collezione lui giustamente apre la vetrina e mi dice ah guarda questo qua sa che è arrivato qualche giorno fa ed effettivamente è due settimane che lì non è tanto non è poco e sì l'ho provato a toccare è funzionante è funzionante quindi probabilmente l'ha sbacciocato un pochino e ha detto che funzionante fa benissimo così va benissimo così che apre la vetrina lo prendo in mano è esattamente quello che pensavo sbacciocchiamento vario allora io non so se riesco a farvelo vedere già da qua ma già dalla cassa voi vedrete che è un mirexal cronometer e uno dirà ma che cos'è sta roba grauco che cos'è sì la cassa sarà da riprendere ma ci vorrà poco è tutto in acciaio in acciaio pieno io vi faccio vedere adesso questo orologio e capirete è un orologio anni 70 certificato COSC ha un movimento eta 27 90 al suo interno con la sua certificazione quindi ha il suo numero il movimento è numerato come giusto che sia bellissime a mio avviso sono le particolarità di questo quadrante innanzitutto le vorrei raccontare insieme a voi vediamo se riusciamo ad essere d'accordo su certi aspetti quadrante marrone soleil già di per sé per l'epoca era qualcosa di un po' particolare non è raro trovarlo che sia chiaro ma particolare e al giorno d'oggi questo stile ha ripreso prepotentemente un po' la scena del vintage no abbiamo questi indici a colonna specchio sono imponenti sono alti e sono imponenti guardate che riflesso riescono a donare proprio all'interno dello stesso quadrante disco giorno e disco data in conformazione volgarmente chiamata panda minuteria grigia in contrasto con il quadrante marrone che ci sta da dio e cosa non non sempre così scontata il logo il logo non è stampato ma applicato mi rexal quindi è un altro un altro un altro pregio che si aggiunge se pensiamo al costo che affrontavano per riuscire a produrre questi tipi di orologi all'epoca lui è il super automatic e questo l'avevo visto e mi ricordavo bene perché nelle mie letture dei vari forum di orologeria che eseguo ormai da 15 anni più o meno sono iscritto nei vari forum se uno legge si informa poi le informazioni gli rimangono però deve deve studiare deve applicarsi e non è che uno ha letto e poi dopo una settimana se l'è dimenticato quindi sono informazioni che ho voluto reperire io di per me adesso apriamo il fondello e vi faccio vedere in funzione un movimento certificato cosc che non è facilissimo trovarlo ragazzi negli anni settanta con quello che costavano queste certificazioni non è facilissimo trovarlo le considerazioni possono essere o l'ente aveva abbassato i prezzi perché c'era c'era scarsità di lavoro o veramente Mirexal come è ha tentato sempre di fare orologi di grande qualità e se voi cercate degli orologi Mirexal sono orologi che incassano movimenti di qualità e le particolarità delle casse, l'acciaio, il peso non hanno mai lesinato sotto quel punto di vista cioè è facile vedere un movimento del genere ma è più difficile riconoscerne le sue capacità che sono quelle di un movimento certificato cronometro ora scusate la voce è appagante e dall'altro punto di vista è quasi mi sovviene una certa tristezza nel pensare che Mirexal un marchio così conosciuto così conosciuto in Svizzera perché era veramente conosciuto pane e cioccolato e Mirexal quasi possiamo dire sia decaduto e quindi non ci sia più nei marchi che al giorno d'oggi diciamo possono vantare orologeria contemporanea però se riesce a tramandarci un orologio di questa qualità ok? di questa tradizione e allora tanti meriti tanti meriti vanno a loro allora io adesso stacco la telecamera monterò il cinturino che il commesso mi ha mi ha consigliato e poi facciamo due riprese in esterna come vedete per un COSC sono bastati anzi vi voglio far vedere scusate che mi alzo dalla telecamera perché poi qualcuno pensa ma non è possibile ma cosa stai dicendo 90 euro più 5 fanno 95 euro meno di 100 euro cassa acciaio ma soprattutto un movimento certificato COSC quindi è un orologio di estrema qualità tra l'altro le dimensioni e poi mi fermo scusatemi se poco 37,7 scusa la corona e non vado al lag to lag perché è veramente discreto il lag to lag guardate quanto è quanto arriva a essere discreto 38,7 ma di per sé la cassa in alte si sviluppa per quella che è la sua lunghezza allora scusate 39,2 vediamo se riesco si 38,7 secco quindi abbiamo delle anze che vanno a scomparire in quella che è la grandezza e l'altezza della sua della sua cassa in lunghezza in questo caso lo spessore è per 12,2 quindi possiamo anche dire che è abbastanza contenuto visto il vetro che monta dai mettiamo il cinturino due riprese in esterna e ci salutiamo e voilà eccolo qua avete visto che ha preso forma eh avete visto che spettacolo guardate che bello ho detto vicino il suo cartellino così ricordiamo tutti che orologi si possono acquistare di grande qualità con meno di 100 euro e questo in una collezione non sfigura assolutamente ora lo mettiamo al polso facciamo due foto in esterna alla luce perché merita questo quadrante cerca la luce il più possibile e vi saluto a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.